La settimana del derby è una settimana speciale e al botteghino del Renato Curi è il secondo giorno di lunghe file, causate anche dalla presenza di due soli punti vendita. Prima di tutto che è un'ora e mezza che siamo a fare la fila e si aprissero due botteghine di più, saremmo meglio tornare a lavorare un po' prima. Però beh, non vale la pena, è una bella partita, sono contento che ci viene tanta gente, è un bel segnale anche per l'ambiente, quindi si attende volentieri. Il derby per un perugino è una partita molto più importante delle altre, cioè a livello di un passaggio in promozione, cioè di un passaggio in un'altra categoria, è veramente una cosa che fin da bambino è una partita che è totalmente diversa dalle altre. Dopo il 4-0 casalingo sul Brescia, il Perugia è reduce da un passo falso. Era importante prendere un punto a Ascoli per cercare di affrontare un po' meglio il derby, che è ora che vincemo perché è parecchi anni che non si vince a Perugia il derby. Nonostante la gradinata sia chiusa, gli altri spalti del Curi saranno un fiume in piena. All'osso duro c'è sempre, quindi lo vivremo con tanta gioia, tanto vino, tanto divertimento e niente, ci divertiremo insicuro. Poi se vinciamo è meglio, secondo me vinciamo.